investita da un'auto davanti casa muore novantenne di montelabate commercio pesarese pronto al via dei saldi estivi sport e disabilità leggi che rischiano di essere dimenticate tagliatelle spettacoli torna novilara arte gusto da stupor circus amira il teatro un'estate di spettacoli al miralfiore buona serata a tutti voi telespettatrici e telespettatori di rossini tv ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione serale di rossini news telegiornale del canale 80 che in questa edizione di mercoledì 5 luglio apriamo con la cronaca lo facciamo purtroppo dandovi notizia di un altro incidente mortale sulle nostre strade incidente che in questo caso è avvenuto questa mattina nella frazione montelabatese di osteria nuova nel primo servizio vedremo che a perdere la vita è stata un'anziana novantenne investita da un'auto proprio sotto casa morire travolta da un'auto nella manciata di metri che dividono fra la propria abitazione e il bar davanti casa questa mattina è morta così antonia arduini novantenne da sempre residente ad osteria nuova e da tutti conosciuta come tonina la pensionata come centinaia di altre mattinate oggi si stava recando al bar pippo di fronte casa per un abitudinario rituale della colazione mattutina attraversava sempre sulle strisce pedonali disegnate proprio davanti al cancello di casa in via provinciale strada principale della frazione montelabatese questa mattina però attorno alle 7 la donna è stata investita da una utilitaria Ford che presumibilmente non si accorta della presenza dell'anziana in transito questo suggerirebbero i rilievi sull'asfalto che denotano segni di una frenata tardiva e oltre il punto dell'impatto con l'anziana travolta e spinta in avanti per circa una cinquantina di metri alla guida dell'auto un trentenne sceso in lacrime dal veicolo una volta appurato che quell'anziana era morta sul colpo vani i soccorsi del 118 poco dopo anche il figlio di tonina residente a un paio di isolati ha raggiunto il luogo dell'incidente forse causato dall'abbagliante luce solare che a quell'ora può affuscare la vista sulla carreggiata supposizioni al vaglio di polizia stradale polizia locale di montelabate e carabinieri che sono intervenuti sul posto indagando per la ricostruzione del sinistro lasciamo la cronaca e cambiamo argomento perché da domani 6 luglio partono i saldi estivi in tutta la regione Marche occasioni promozionali d'acquisto che dureranno fino al 31 agosto e questa mattina il nostro Edoardo Razzi ha fatto un giro tra i commercianti del centro storico di Pesaro per capire come viene valutata questa importante finestra di vendite dal 6 luglio al 31 agosto 2023 questo è il periodo di saldi estivi nelle Marche noi oggi ci troviamo in centro a Pesaro per andare ad ascoltare il parere dei commercianti in merito a questo particolare momento allora noi siamo sempre carichi perché comunque cerchiamo di agevolare anche chi vuole comprare nei saldi abbiamo una politica un po' diversa perché abbiamo un prodotto un po' più alto come tipologia di prodotto perché il nostro prodotto è tutto made in Italy è fatto da noi perché viene fatto a Fabriano quindi comunque è un prodotto che la maggior parte è continuativo però in alcune cose diamo comunque anche delle offerte sul prezzo e quindi faremo degli sconti sempre i soliti il 30, il 40, il 50 siamo alle porte del 6 di luglio che è un appuntamento importante per molte persone che desiderano fare gli acquisti a un prezzo conveniente invece per voi che momento è? allora in realtà nonostante siamo alle porte dei saldi comunque è un momento abbastanza dove vendiamo molto bene principalmente perché l'estate è arrivata un po' tardi quindi è un momento un po' clou dei costumi copri costumi, cose, cappelli di paglia, borse di paglia e abbiamo delle aspettative molto alte proprio perché nonostante ancora non ci siano i saldi comunque vendiamo molto bene le aspettative sono molto alte per quanto riguarda appunto tutto quello che è il mondo costumi e mare siamo contenti della stagione per l'occasione domani sera rimarremo aperti anche dopo cena iniziano i saldi ci cerchiamo di spingere al massimo per riuscire a liberarci degli ultimi articoli e ripartire ad agosto con la collezione invernale insieme ma è un momento importante sicuramente per la clientela ma soprattutto per i commercianti che in questi giorni poi riescono a fare degli incassi un pochino più importanti il momento non è facile però devo dire che non ci lamentiamo le tendenze invece per quanto riguarda il periodo primavera e estate 2023? le tendenze, vabbè il colore sono state caratterizzate molto dal colore infatti noi abbiamo fatto abiti abbastanza colorati anche stando anche sulle basi del classico blu e nero però diciamo che quest'anno è esploso molto il colore dal giallo, dal rosso, dal verde ma diciamo che la cerimonia è andata molto bene, sta andando bene ovviamente nel periodo dei saldi uno, un cliente, si toglie quello sfizio si toglie quella camicia particolare, quel pantalone particolare ad un prezzo estremamente conveniente l'estate 2023 ha già provato a carpire quale potrebbe essere il trend per questa stagione pantaloni corti, cotone e lino, costumi, le cose che servono ai nostri clienti per finire l'estate sicuramente andranno tantissimo i costumi perché è proprio questo il momento e molto agli accessori, quindi appunto le borse, i cappelli vanno tantissimo e poi abbiamo anche molti turisti che sono sempre alla ricerca appunto del cappello, dell'accessorio più che del costume il turista ricerca proprio l'accessorio quello che va è il colorato, il nero in questo momento io parlo sempre di costumi è quello che viene un po' meno ricercato, piace molto il colorato, che sia tinte unite e meno fantasie un verde acceso, un viola, fucsia, comunque tutti i colori accesi Da domani 6 luglio dalle 9 di mattina parte il servizio di navette gratuite attraverso il Parco San Bartolo ve ne abbiamo dato notizia nelle telegiornali di venerdì scorso ma vi vogliamo ricordare questa importante opportunità di promozione turistica del territorio all'insegna della sostenibilità e della gratuità attraverso due percorsi di navette attivi dal giovedì alla domenica che diventeranno poi quotidiani durante le settimane clou di agosto una linea parte da piazza Matteotti e stazione ferroviaria di Pesaro per poi raggiungere Gabicce Mare attraversando il San Bartolo e fermandosi a Santa Marina Alta, Fiorenzuola di Focara, Castel di Mezzo, Vallugo e Gabicce Monte il secondo itinerario parte da Tavuglia e raggiunge Gradara e Fiorenzuola le due navette si intersecano nella zona camping di Castel di Mezzo luogo in cui si potrà effettuare il cambio di bus per le direzioni raggiunte dall'altro mezzo in consiglio regionale è stata accolta una mozione delle consigliere Andrea Biancani in merito ad alcuni bandi a supporto delle imprese agricole marchigiane un bando che viene ora arricchito da un'attenzione particolare verso le imprese colpite dalle alluvioni o verso quelle che intendono investire sulla prevenzione alle calamità avevo presentato circa tre settimane fa un'interrogazione in consiglio regionale che è stata discussa proprio in questi giorni dove chiedevo di prevedere degli incentivi dal punto di vista dei punteggi per quanto riguarda i bandi per i giovani che vogliono avviare un'attività agricola o per quelle attività agricole che vogliono fare investimenti ovviamente questi punteggi che dovrebbero consentire alle aziende che partecipano ai bandi regionali varranno un aumento di punteggi che varrà in quelle zone che sono state colpite sia dall'alluvione di settembre 2022 sia per quanto riguarda maggio 2023 questo è un dato importante perché dal punto di vista di risorse per i propri regionali ancora queste aziende agricole non hanno visto un soldo non hanno visto un soldo neppure per quanto riguarda le risorse che dovrebbero arrivare dallo Stato e dare un segnale come regione appunto con un punteggio che consente di aumentare appunto il punteggio delle aziende che sono ubicate nelle zone che hanno avuto all'alluvione mi sembrava una bella opportunità questa proposta che ho fatto è stata accolta e quindi invito anche le aziende del nostro territorio dovrebbero presentare i bandi e perché avranno sicuramente un punteggio che gli consentirà di poter avere di poter accedere alle risorse di fondi europei legate al mondo agricolo Ed ora parliamo di sport che si lega alla disabilità in particolare a quella degli atleti ipovedenti Anna Maria Chicca Mencoboni, paratleta pesarese vincitrice di diversi titoli nazionali da anni si batte per il riconoscimento legislativo del ruolo degli atleti guida ma la legge rischia di scivolare in un pericoloso dimenticatoio Siamo con Anna Maria Chicca Mencoboni al campo scuola di Pesero luogo in cui Chicca ha costruito tanti dei suoi successi di questi anni successi da paratleta che però non sarebbero stati probabilmente possibili senza il ruolo dell'atleta guida un ruolo fondamentale che però stenta ad essere riconosciuto nonostante anche il tanto impegno fuori dal campo che Chicca Mencoboni ci ha messo in tal senso Il ruolo della guida è fondamentale perché è come se fosse la protesi per un amputato per un non vedente, un ipovedente grave che ha necessità dell'atleta guida se non c'è sta a casa quindi quel famoso diritto allo sport che deve essere effettivo per tutti in realtà non lo diventa a questo proposito nel 2019 iniziai a lavorare con il Ministero della Disabilità proprio per far riconoscere il ruolo dell'atleta guida in modo tale che non fosse più solo volontariato ma diventasse un ruolo riconosciuto avevamo anche fatto dei grandi progressi eravamo arrivati a un protocollo d'intesa anche se in via semplicemente informale purtroppo l'instabilità politica nel nostro paese comporta che poi ci sono nuovi interlocutori ed è difficile quindi riuscire a ritornare a dialogare siamo riusciti a farlo grazie all'intervento e ci tengo a sottolinearlo del consigliere Michela Vitri che mi ha dato la possibilità di partecipare a un consiglio regionale il consigliere Biancani ha raccolto subito la sfida insieme abbiamo lavorato, io ho fornito tutte le indicazioni perché le linee guida le ho scritte io di mio pugno insieme ad una mia compagna diciamo di squadra e siamo riusciti ad introdurre in una legge del 92, una legge dello sport un emendamento che finalmente per la prima volta prende in considerazione proprio il ruolo dell'atleta guida che è diverso dall'accompagnatore la cosa preoccupante è che quegli enti che dovrebbero tutelare gli atleti in tutte le forme di disabilità compresa la disabilità dei non vedenti che purtroppo in Italia viene considerata di serie B costa un po' di più, parliamoci chiaro perché la guida costa un po' di più purtroppo invece di essere grati del lavoro che io personalmente o altri fanno dietro le quinte e richiede tanto lavoro, tanta attenzione purtroppo non ci forniscono il supporto necessario e quindi tutto si ferma e a mio avviso la cosa fondamentale io credo molto nel lavoro di gruppo, nel lavoro di squadra in un team, un tavolo di lavoro dove ognuno di noi possa portare le proprie esperienze le proprie capacità e la propria professionalità perché credo che solo così si possa arrivare ad un risultato concreto da poter poi estendere a tutte le altre regioni perché abbiamo avuto richiesta da altre regioni che si stanno muovendo e soprattutto a livello nazionale spero di poter prendere di nuovo i rapporti le fondazioni Visit Gabice e Welcome to Gabice lanciano un nuovo servizio di car sharing per consentire a tutti i visitatori di spostarsi agilmente e in autonomia per andare alla scoperta delle bellezze e delle attrazioni che il territorio è in grado di offrire il servizio disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24 permetterà il noleggio di vetture sempre disponibile in autonomia previa prenotazione sul sito www.carsharingingo.it Saranno posizionate a Gabice due vetture utilitare riconoscibile per il logo Car Sharing Go e Visit Gabice All'hotel Charlie in Pesaro si è tenuta la Charter Night che ha segnato il passaggio di consegne per il Lions Club Pesaro della Rovere L'avvocato Gabriele Belfatto ha ricevuto la campana dalle mani della past president Chiara Cacciaguerra divenendo il nuovo presidente del Lions Club Pesaro della Rovere per l'anno sociale 2023-2024 Conto alla rovescia per Fanum Fortune la Fano dei Cesari una manifestazione che dal 12 al 16 luglio farà fare alla città di Fano un salto indietro nel tempo di 2000 anni trasformandola nell'antica Fano romana Nell'occasione ci saranno accampamenti, dimostrazioni, riti, battaglie e la spettacolare Corsa delle Bighe che entra in scena con l'Arco d'Augusto come cornice naturale il tutto animato da oltre 2000 figuranti tra professionisti e cittadini delle quattro diverse fazioni ognuna delle quali in gara per contendersi l'ambito titolo finale E invece domani, giovedì 6 luglio alle 21 va in scena il secondo appuntamento con note oliveriane rassegna organizzata da biblioteca e musei oliveriani nella corte di Palazzo Almerici In collaborazione col Festival Musica Meniloci si andrà alla scoperta di un eclettico personaggio del 600 peserese come Ludovico Zacconi i cui manoscritti e giochi musicali sono conservati dalla stessa biblioteca una narrazione a cura della musicologa Maria Chiara Mazzi e dal coro Iubilate di Candelara E invece dal 7 luglio al 4 agosto tornano le Buone Notti i piccoli notturni che ravvivano l'estate di Montelabate ed esplorano gli angoli più affascinanti e segreti del suo territorio Si parte venerdì 7 luglio alle 21.15 sul prato del castello di Montelabate con l'ormai consueta serata di cinema all'aperto in programma ci sarà la proiezione del film Antonia ispirato alla vita della poetessa milanese Antonia Pozzi Ancora eventi e ci spostiamo a Novilara per parlare di Novilara Arte e Gusto manifestazione che da 11 anni ha rispolverato e arricchito l'antica tradizione della Sagra della Tagliatella in un format davvero per tutti i gusti 7, 8 e 9 luglio queste le tre serate di Novilara Arte e Gusto un evento che da oltre un decennio, siamo da 11esima edizione, ha recuperato e rivisto la vecchia Sagra della Tagliatella un evento molto atteso da Novilara e ce ne sarà davvero per tutti i gusti La bellezza di questo evento è proprio quello di creare una sinergia tra le generazioni noi abbiamo recuperato una tradizione che stiamo mantenendo viva e rendendo un po' più contemporanea abbiamo anche la fortuna di avere le degustazioni perché avremo le cantine del territorio del vino, quindi i vignaioli che ci saranno nella serata di venerdì e di sabato e dei birrifici del territorio invece la domenica invito chiunque a guardare il programma completo perché veramente ci sono tantissimi ospiti sul nostro sito novilartegusto.it a iniziare dal venerdì avremo anche un concorso letterario quindi un'attenzione anche dal punto di vista culturale della manifestazione con degli artisti, anche ospiti con delle installazioni e soprattutto l'immancabile tagliatella fatta in casa e su quello che dire, solamente da assaggiare, provare e riprovare Consiglio regionale guarda con attenzione alla manifestazione novilare arte gusto che è cresciuta negli anni e che rappresenta uno spaccato di tipicità da valorizzare sia per i residenti ma anche per i turisti Da una semplice festa legata a un prodotto tipico che è le tagliatelle si è trasformata in un'iniziativa che ha sempre il prodotto tipico come punto di riferimento ma che ha avuto la capacità di organizzare tutta una serie di attività anche culturali attaccate, abbinate a questa festa, a questa manifestazione quindi io ritengo che ci sia veramente novilare arte gusto sia un'iniziativa molto bella e invito anche i turisti e ovviamente anche i cittadini pesareggi a partecipare perché è sicuramente un bel biglietto da visita E poi naturalmente ci sono gli spettacoli Ruggero De Timida per la prima serata e personaggi di Italia's Got Talent e di Zelling a completare il tutto Esattamente, è un programma veramente ricco siamo riusciti a invitarli tutti in un'unica edizione che forse è la prima volta che riusciamo ad avere un programma così ricco e così vario Ruggero è un fenomeno, è un personaggio molto conosciuto dei giovani e siamo molto contenti di averlo qua da noi perché difficilmente scende dal centro Italia in giù Invece con Andrea Fratellini, Italia Got Talent lui ha vinto l'edizione del 2020 quindi è assolutamente uno spettacolo da non perdere e poi per chiudere Zellig perché per noi è un po' un filone classico e volevamo appunto mantenerlo nella serata di domenica Nel cartellone estivo preparatorio a Pesaro Capitale della Cultura 2024 occupa un posto di assoluto rilievo il Parco Miralfiore con il suo anfiteatro che si apre ad una ricca carrellata di eventi estivi targati a Amat si comincia da domani con i tanti eventi legati a Stupor Circus per poi continuare con Emira al Teatro d'Estate L'estate a Miralfiore si preannuncia piena di colori dal 6 al 16 luglio torna Circo e il Grito per la quinta edizione di Stupor Circus il festival internazionale di circo contemporaneo organizzato da Comune di Pesaro insieme a Amat Stupore, riflessione, giocoleria comica e poi ancora spettacoli muti, acrobati, clown equilibristi, musicisti, polistrumentisti tutto questo accompagnerà il pubblico per ben 25 serate in un viaggio astratto dove realtà e magia diventano una cosa sola dal 19 luglio fino al 9 agosto si continua con Miralfiore al Teatro d'Estate 15 serate di spettacolo organizzate sempre dal Comune di Pesaro e Amat insieme a Ente Concerti di Pesaro Filarmonica Gioacchino Rossini, Colo Filarmonico Rossini Teatro Accademia, Ministero della Cultura e Regione Marche A dare il via con la prima serata ci sarà il primo concerto della cantante pesarese Maria Antonietta e si continuerà con personaggi di spicco nel panorama italiano il 22 luglio con Nino Frassica e il 28 luglio R. De Luca per poi godere di un sapore internazionale con il concerto di Benjamin Clementine poeta e cantautore inglese il primo agosto poi ancora Enrico Loverso ci porterà nel grande classico di Platone con l'apologia di Socrate che rifiuta di salvarsi la vita pur di continuare a sostenere le proprie idee per concludere il 9 agosto Nicola Piovani accompagnato da altri tre musicisti si esibirà con uno spettacolo autobiografico in cui il pianista condividerà esperienze, ricordi e aneddoti ripercorrendo la sua carriera condivisa anche con Benigni e Fellini e si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo come sempre alcuni appuntamenti su Rossini TV in questa serata di mercoledì 5 luglio subito dopo la prima edizione del Tg alle 20 andremo a rivedere il nostro speciale realizzato in occasione della cena insieme estiva della Compagna delle Opere Pesaro Urbino innovazione nella tradizione dalla generazione presente a quella emergente appuntamento come detto alle 8 con questa cena tenutasi in occasione del Festival Utopia all'Istituto Alberiero Santa Marta di Pesaro a seguire alle 21 e 20 telecamere che si accendono su Fano sull'Arena BCC che ha presentato la sua ricca stagione di eventi estivi 2023 vedremo in questa occasione lo speciale realizzato dal nostro Antonio Astuti come detto alle 21 e 20 e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali come sempre in diretta dal lunedì al sabato ed è davvero tutto invece per questo spazio informativo di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi